È Natale a Monbaroccio! Magiche atmosfere natalizie! Ti aspettiamo sabato 26 e domenica 27 novembre, ma anche il 3, il 4, l'8, 10 e l'11 dicembre! A Monbaroccio torna la magia del Natale, della musica, delle tradizioni e dei sapori, tra i vicoli del borgo medievale! È Natale a Monbaroccio! Magiche atmosfere natalizie!